Era un progetto che riguardava la piantumazione in formelle prive ormai di piante che erano morte o erano state abbattute all'interno del centro cittadino. Abbiamo iniziato oggi in Piazza Roma dove avevamo due fallanze, stiamo piantumando due laggestrolemie, una specie del sud-est asiatico che rimane come albero molto contenuto ma molto bello dal punto di vista floreale. Abbiamo una fornitura per adesso di circa 100 alberature e come dicevo prima interverremo in vari punti della città. Le zone maggiormente critiche quali sono? Le zone maggiormente critiche nelle quali vogliamo intervenire nei giorni successivi a questo sono nella via Cagliari per dare un decoro diverso nell'asse principale della nostra città.